chiamo l'organizzatore perché è giusto me lo immagino come che stavo qui qua oh guarda un po' che roba avevo fatto è un bello come è un bello no 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 dice bello madonna guarda quanta gente ma tutte quante ma anche questi tutti a quel prezzo gli avrei detto beh non ti è piaciuto come no dice io non ho mica parole guarda anzi non ho parole ma io direi ma ma che ma prima no perché nel jazz si fa il concerto il giorno dopo le prove grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.